Ciao amici e be 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 trovati Qualche mese fa ho recensito per voi il Coolpad Coolchanger S1 Device dall'ottimo rapporto qualità prezzo Vi ricordo che Coolpad è un brand che costruisce smartphone in collaborazione con le Eko Oggi grazie a Gikmall.it andiamo a recensire il Coolpad Coolplay 6 Terminale destinato alla fascia media del mercato Che però ci riserva grandi sorprese Bobbiamolo insieme Io sono Bob DJ Axe E questa è la recensione del Coolpad Coolplay 6 Oggi amici parte una nuova collaborazione con Jigmall.it Store online specializzata nella vendita di prodotti cinesi Jigmall.it vi offre la spedizione in 48 ore E non con settimane di attesa come altri siti E soprattutto vi offre due anni di garanzia Claro! Esteticamente lo smartphone mi piace Scocca in alluminio unibody di pregevole fattura Con le classiche due bande in plastica in alto e in basso Poi in questa colorazione black è veramente bello Sul fronte troviamo un display IPS da 5,5 pollici Con risoluzione Full HD e 401 ppi Ottimo pannello che si lascia guardare grazie ai suoi colori naturali Alla sua gamma cromatica completa Ed alla sua buona luminosità In alto troviamo la fotocamera da 8 megapixel Per selfie bimbo minchia Bobazzi Però questo cappello Scusate un attimo Ecco fatto Sul retro doppia fotocamera Queste due sono vere Da 13 più 13 megapixel Con doppio sensore Uno in bianco e nero Ed uno RGB Con apertura f2.0 Lato destro Volume Rocket Altro lato carrellino per 2 nano sim Vi ricordo che non è espandibile In basso speaker di sistema Porta USB Type-C e microfono In alto microfono E porta jack da 3,5 Sotto al cofono troviamo Il SoC Qualcomm Snapdragon 653 Con GPU Adreno 510 Ben 6GB di RAM LPDDR3 E 64GB di memoria interna Non espandibile Amici Il device è fluido Senza impuntamenti Potete riempire la RAM A vostro piacimento Perché con 6GB Il device sarà sempre pronto e scattante L'interfaccia personalizzata da Coolpad Ricalca Android 7.0 Nougat Versione stock Ed è sempre fluida e veloce Non ho trovato grossi impuntamenti Anche nel far girare giochi Complessi Non ho trovato Non ho visto micro scatti Veniamo alla batteria Che è da 4060 mAh E sinceramente mi sarei aspettato Un'ottima autonomia Invece no Cazzo 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 Intendiamoci Raggiunge Raggiungerete le 5 ore di display Che magari per molti di voi Saranno sufficienti Per me no Ma con una batteria così Mi sarei aspettato Decisamente di più Per poter uscire Con la vostra dolce E casta donzella Sicuramente colpa di una non perfetta ottimizzazione software E spero che qui Coolpad intervenga Perché è un peccato Avere una batteria di questa portata E fare praticamente la stessa durata Di una 3000 mAh Per quanto riguarda le due fotocamere Montate sul device Fanno buone foto Con buona luce Così così Con poca luce Il doppio sensore in bianco e nero Permette scatti artistici L'interfaccia È abbastanza semplice Diciamo iPhone style Praticamente c'è la possibilità Di avere l'effetto bouquet È migliore rispetto su altri device cinesi Ma non siamo ovviamente A livello di top di gamma L'audio è buono Con volume alto È abbastanza definito In capsule auricolare Ci sentono bene E noi sentiamo bene Il nostro interlocutore L'ho utilizzato per una settimana circa L'ho portato alla presentazione del Note 8 Ci ho fatto video, foto E ho fatto il vlog Mentre venivo a Milano Lo avete visto E assolutamente Non mi ha dato nessun problema Vi ricordo che La ricezione è buona Manca però la banda 20 Quindi Per fare un esempio Nel bagno bunker del mio ufficio Non riceve il 4G Veli mortacci 2 Amici Concludendo Un device Che non mi ha fatto impazzire Per due motivi principali La batteria Mi aspettavo molto di più E la mancanza della banda 20 Per il resto potrebbe essere Un best buy Se costasse meno Secondo me Intendiamoci Per 250 euro Vi portate a casa Un device In alluminio Con cura dei particolari Snapdragon 653 6 giga di ram Doppia cam Veloce e scattante Quindi con questa dotazione hardware Non si trova molto di meglio A quel prezzo Ma sapete che Io dico sempre Quello che penso Lo trovate su Geekmall.it Con codice sconto Bobax5 Ripeto Bobax5 Che potete utilizzare Per acquistare Qualsiasi articolo Sul sito Geekmall.it Mick Cosa ne pensi? Allora Poi maestro serve qua Dici perché? Dici ma fai un group Fai solo music Fai ritmo e blues Fai un po' così cosa Cioè Poi fai uguale Amici Io vi ricordo di cliccare Mi piace sotto al video Se vi è piaciuto E di cliccare sulla campanellina Per rimanere sempre aggiornati Sui miei video Se invece Il video vi ha fatto Defecare Meglio Perché come diceva mia nonna Non c'è oro Che paga Un culo Che caga Iscrivetevi al canale Telegram Iscrivetevi al canale YouTube Visitate la mia pagina Facebook Ed il contenitore delle nostre vite www.bobax.it Io ora Vi saluto Vi Magnetizzo E come sempre Vi dico Non Entity Heart Energy E come sempre E come sempre